La società non vuole che tu sia una persona di cuore. La società ha bisogno di teste, non di cuori. Una volta, mentre mi trovavo all'università di Varanasi, parlai con uno degli studiosi indiani più rinomati del tempo, il dottor Aajari Prasad Devivedi. All'epoca presideva la conferenza a cui dovevo partecipare ed era a capo della facoltà di lettere. Gli domandai, si è mai chiesto come mai venite chiamati capi e non cuori? Mi rispose, lei fa strane domande, era molto anziano e ora è morto. Poi aggiunse, nessuno mi ha mai chiesto perché mi chiamo capo e non cuore. Tuttavia, ci penso su. Poi infine disse La sua domanda è importante, mi stimola a chiedermi come mai non si parla di cuore, della facoltà di filosofia, per esempio. Sarebbe più autentico, essenziale, invece tutti sono chiamati capi. La società è divisa in capi e mani. Avete notato che i lavoratori sono chiamati mano d'opera? I poveri lavorano con le mani, sono manovali, sono mano d'opera e chi sta sopra di loro viene chiamato capo. Quando inizi ad avvertire un movimento nel cuore, il suo significato è immenso, perché il tuo cuore è molto più prezioso della testa. La testa ha mutuato tutto, non ha niente di suo, il cuore invece è ancora tuo. Non è cristiano o hindu, è ancora esistenziale. Non è corrotto e inquinato, il cuore è ancora originale. Quello della testa al cuore è un salto quantico incredibile, un passo ulteriore dal cuore all'essere. E se è arrivato a casa, il pellegrinaggio è compiuto. Nessuno può passare direttamente dalla testa all'essere. Sono due estranei, non esiste alcun collegamento tra loro, non sono neppure mai stati presentati. L'essere non sa nulla della testa, e la testa non sa nulla dell'essere. Vivono nella stessa casa, ma sono due perfetti estranei, poiché funzionano in maniera completamente diversa. E non si incrociano mai, non si incontrano mai. Il cuore è il ponte. Una parte del cuore conosce la testa, e una parte del cuore conosce l'essere. Il cuore è a metà strada, nel viaggio verso l'essere. È una sosta obbligata. Dal cuore potrà intravedere qualcosa dell'essere. Dalla testa? No. Per questo i filosofi non diventano mai mistici, i poeti diventano mistici. Sono trasformati. I pittori, gli scultori, i ballerini, i musicisti, i cantanti sono più vicini all'essere. Purtroppo la nostra società, nel suo complesso, è dominata dalla testa, perché la testa è in grado di guadagnare. È molto efficiente. Le macchine sono sempre più efficienti. È in grado di soddisfare tutte le tue ambizioni. La testa è nutrita dal sistema educativo, e tutta la tua energia si riversa lì, scavalcando il cuore. Il cuore è l'elemento più importante, perché apre la via verso l'essere, verso la fonte eterna della vita. Io vorrei che tutte le università del mondo rivelassero alle persone la via del cuore, per renderle più estatiche, più sensibili verso tutto ciò che ci circonda, quell'immensa bellezza, quella gioia straripante. D'altra parte, il cuore non può soddisfare i desideri dell'ego, e qui sta il problema. Ti può dare un'incredibile esperienza d'amore, un mutamento alchemico, può portare il meglio di te, alla sua forma più chiara e più pura, ma non creerà denaro, potere, prestigio. E questi sono diventati gli scopi, le mete collettive. Lasciati scivolare dalla testa al cuore, e poi rischi ancora di più. A quel punto scivola dal cuore all'essere, che è il vero fondamento della tua vita.